Di 7 palazzo, 2.872.000, capo al tono di ingasso totale di questo mese, a 7.427.200. Al netto di spesa della gestione generale, è il 25% di profondo gas a tutti gli imperisti. E ciò fatto? 1.175.973, il quadro principale del 15%. E' 271.370, paguotano 5% di Vico. Operi, se lo mostra. Voleste sapere ancora che quando ti impaguotano sta ad essere solo 5%? I pisciamucca.